eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro giugio io ragazzi in questo primo video di giornata dobbiamo parlare di tante notizie perché si arricchisce sempre di più la saga curva nord la saga con l'inchiesta ad essa correlata con sempre più colpe nei confronti dell'inter ma soprattutto ragazzi soprattutto c'è qualcuno che torna un pochino indietro nel tempo perché a me sembrava che tutta questa inchiesta poi ci facesse dimenticare quello vecchio e lo ha fatto dimenticare un po a tutti sappiamo com'è l'opinione pubblica no che se una cosa non la dici non la ripeti non è mai successo però non è evidentemente così per dagospia che torna pesantemente all'attacco e quindi ragazzi abbiamo aggiornamenti su qualcosa di vecchio relativamente vecchio stiamo parlando di qualche mese di un attacco che dagospia aveva già tenuto nei confronti dell'inter ma che rinnova rinnova ponendo dei quesiti e quindi sbugiardando sbugiardando sia la magistratura ordinaria con naturalmente la procura di milano sempre in prima linea sia quella sportiva la consob e quant'altro ragazzi perché sono anche loro coinvolti e colpevoli dal punto di vista invece dell'altra situazione abbiamo le parole di cialanoglu che anche gli continua ad inguaiare l'inter poi ragazzi è inutile che ve la venite a prendere con me perché poi se non li vorranno condannare in qualche modo sarà una negligenza o una cattiva fede degli organi giudicanti oltre che degli organi inquirenti perché lo sappiamo benissimo che quando si parla della procura di milano il problema è ambivalente quindi sia organi giudicanti che organi inquirenti ci fidiamo poco detto questo ragazzi come al solito prima di cominciare il video un like a questo contenuto descrizione gratuita al canale e se non l'avete ancora fatto azionate anche la campanella delle notifiche fondamentale per rimanere aggiornate in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre in futuro su questo canale allora la premessa ragazzi che questo sarà un video abbastanza lungo ma lo faccio volentieri perché l'argomento lo snodo principale è un mio cavallo di battaglia voi lo sapete qualcosa a cui ho dedicato tanti video qualcosa per il quale ho combattuto qualcosa per il quale mi sono sbattuto andando a ricercare ed anche portandovi delle testimonianze qui sulla pagina con devo dire enorme successo da parte vostra come al solito rispondete sempre in maniera egregia ma ragazzi la prima cosa voglio rispondere ad alcuni tifosi juventini che continuano a pormi la stessa domanda allora ragazzi in tanti mi continuano a chiedere che cosa ne parli a fare se poi sai già che l'inter non verrà condannata e allora ragazzi io vi voglio rispondere con un aneddoto che mi è capitato proprio questa sera perché voi sapete che io questo è il primo video di giornata io li registro alla sera perché quest'ora mentre voi state comodamente facendo colazione guardando il video io sarò già a lavoro perché Gigi Juve fa anche un altro lavoro quindi detto questo io sono andato ad una normale riunione di classe dove veniva diciamo esposto il programma dell'anno scolastico con gli altri genitori perché ho un figlio che fa la quarta elementare ne ho anche una che fa la seconda però stiamo parlando di questa riunione e si parlava di una gita spero in tal caso che nessuno dei compagni di classe di mio figlio né mio figlio guardi questo video ma tanto è molto difficile stavo parlando di questa gita che dovrebbe essere una gita di più giorni se verrà approvata è proprio nella città di torino dove c'è da visitare il museo eccizio nel primo giorno e poi nel secondo giorno si parlava di un altro museo siccome io ero vestito con una tuta della juventus ho fatto il segno al simbolo della juventus e subito un papà dall'altro lato che lo ha fatto canzonandomi per divertirmi infatti ha sorriso io ho risposto al sorriso però ragazzi questo episodio vi fa capire tante cose mi fa ci sarebbe anche il museo della storia delle rapine mondiali qualcosa del genere comunque della storia delle truffe delle rapine ecco ragazzi io faccio questi video per questa ragione perché l'opinione pubblica dopo ancora tanto tempo continua a pensare che la juventus sia una squadra che ha rubato ha rapinato e io mi sono rotto i coglioni quella battuta voleva essere una battuta divertente a me non ha fatto ridere per niente ragazzi ho dovuto fare il classico sorriso di circostanza perché mi trovavo in una situazione in cui non potevo rispondere ho potuto solo far così con la mano ma avrei voluto rispondere diversamente anche se la persona che me l'ha rivolta è una brava persona e con cui davvero non ho alcun però ragazzi loro non si rendono conto che quando sei juventino queste battute a un certo punto ti fanno davvero girare i maroni questo è uno dei motivi per cui io faccio questi video per fare divulgazione che i media mainstream non fanno e far capire determinate cose fatta questa cosa quindi se dovete fare commenti del genere tanto non li fate questi commenti perché non servono a niente ragazzi io continuerò ci sono altri canali che non parlano di questo se volete andare siete liberi io non posso costringere nessuno ma questo è il mio canale e decido io di cosa parlare detto questo passiamo ai due argomenti del video il primo quello meno importante è quello di Cialanoglu che come tutti sapete è stato interrogato lui è stato interrogato in merito ai suoi presunti contatti con la tifoseria che ha ragazzi ha confermato ha negato la cena che ci sarebbe stata una cena con la famiglia lui ha negato questa cosa ma dice di aver avuto contatti di aver fatto anche beneficenza a queste persone che con lui si sono comportate bene sono state delle bravi persone che gli hanno dedicato dei cori per in favore del terremoto del 2013 in Turchia e quindi lui ha avuto questi contatti nonostante la società glielo avesse negato e si è detto di smettere quindi la cosa importante ragazzi è che conferma contatti vietati articolo 25 che conferma che la società lo sa e quindi omissione di denuncia responsabilità oggettiva e dolce sinfume articolo 4 in realtà sportiva è l'ennesimo tesserato dell'Inter che va ad inguaiare l'Inter dopo Zanetti dopo Inzaghi anche Cialanoglu il prossimo sarà Barella perché ormai questi qua hanno un copione bello e buono parlano di buona fede non sapevo chi era bellocco finché non l'abbiamo visto sui giornali ci voglio far credere delle cazzate mente sapento di mentire come fa una persona che vive a Milano a non sapere chi è bellocco ragazzi ma per favore ma per favore signor Cialanoglu signor carissimo Cialanoglu la smetta di prenderci per il culo perché non abbiamo l'anello al naso e tu sei un grandissimo falso bugiardo ipocrita e delinquente sei nella squadra giusta sei nella squadra giusta dico ai tifosi del Milan che magari lo rimpiangono non avete perso niente perché questo qua è davvero una pessima persona fece bene Ibrahimovic dopo quello scudetto ad attaccarlo come ha fatto detto questo passiamo a quello che è l'argomento cardine di questo video cioè l'attacco di nuovo di Dago Spia perché dopo svariati mesi dopo che un giornalista di Dago Spia è stato anche picchiato da tifosi dell'Inter per questo argomento dopo che gli hanno anche detto è ora che stai zitto e ti fai i cazzi tuoi Dago Spia torna ad attaccare torna a fare la stessa domanda che non fanno i giudici inquirenti che non si pongono né i giudici inquirenti né la giustizia sportiva né niente come mai un membro di Lion Rock fino a maggio era ancora nel consiglio di amministrazione dell'Inter quando loro dichiarano anche sul loro sito loro portavoce dichiara ma in realtà anche sul loro sito e vi ho portato la testimonianza che c'è scritto ancora tutt'oggi anche sul loro sito rinvenibile in qualunque momento basta andare sul sito di Lion Rock Capital digitare e vediamo tra i partner di Lion Rock c'è l'Inter dove dice che hanno disinvestito nel 2021 perché non è stata data nessuna comunicazione di questo disinvestimento chi ha acquistato questo 31% con quali soldi e come ha fatto a finire direttamente nelle mani di Oktrin queste sono le domande che si pone da Gospia queste sono le domande a cui nessuno risponde queste sono le domande che non si pone la procura di Milano e voi ditemi ragazzi se non c'è qualsiasi se non ci sono tutti i presupposti per dire che la procura di Milano sta agendo in mala fede sia nella versione di Viola sia in chiunque abbia giudicato l'esposto di identità bianconera perché ragazzi è cattiva fede non porsi queste domande perché è impossibile è impossibile che uno che sceglie di fare il giudice non si ponga queste domande ma soprattutto ragazzi dal punto di vista sportivo come mai la procura federale non si pone queste domande e come mai la Consob si è dimessa scusatemi la Covizoc non la Consob la Covizoc si è dimessa proprio in concomitanza di queste notizie e dell'esposto di identità bianconera perché nessuno fa queste domande perché nessuno ci dà queste risposte ragazzi questa squadra deve retrocedere per le realtà sportiva non in serie B ma in serie C perché ragazzi ne fanno una al giorno loro pensano poi che col giochetto delle curve dimentichiamo tutto il resto noi lo stiamo mettendo un attimo da parte perché abbiamo capito abbiamo capito che dall'altra parte è molto difficile perché finora non hanno voluto procedere si sta andando a grandi passi verso la prescrizione che dovrebbe essere cancellata nel calcio perché la prescrizione come ha detto Giletti è una vergogna e quindi la coscienza non dovrebbe andare in prescrizione ma stiamo parlando di interisti di coscienza non ne hanno di dignità neppure quindi loro hanno il cervello prescritto detto questo dovremmo eliminare questa prescrizione perché è un giochino che viene sfruttato abbondantemente dalla giustizia sportiva in modo da rendere davvero davvero la legge che è più diseguale non si può ecco quindi la giustizia sportiva è vergognosa da questo punto di vista dovrebbero ragazzi essere tutti indagati il discorso è poi quello il discorso è poi quello che ci vorrebbe un repulisti generale della governance del calcio un repulisti a partire da gravina passando per Chinè ancora Viglione ragazzi la Covizoc ormai non conta più un cazzo perché c'è l'organo di governo ma io me la prendo con lo stesso Abodi che a mio modo di vedere è un personaggio ambiguo con Malagò e il presidente del CONI sono tutti coinvolti tutti sanno tutti come del resto i giornalisti che lavorano in televisione che quella gente tipo Biasin ragazzi ti prende per il culo sapendo di prendere di farlo e lo fanno con quella faccia beffarda che a me io per quello che non posso guardare la televisione perché a me questa cosa fa girare i cosiddetti in un modo incredibile quindi evito di guardare di farmi perculare anche per quello che continuo tutti i giorni a parlare di questo sul mio canale perché è giusto che sappiano che la possono raccontare come vogliono a noi non la fanno a me in particolare non la fanno perché io non ci sono mai cascato nelle loro bugie non mi sono mai fidato di loro e mai lo farò fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti massima condivisione di questo video ragazzi è fondamentale la condivisione condividete queste notizie perché queste notizie vengono tenute nascoste vengono insabbiate vengono le trovate solo su twitter e siccome twitter non è diciamo o x chiamatelo come volete frequentato da tante persone pochi conoscono quindi condividete a manetta queste notizie per far sapere più persone possibili come stanno le cose io vi ringrazio se state arrivati fino a questo punto del mio contenuto dedicandomi un bel po' del vostro tempo e fino alla fine contro tutto e tutti sempre o comunque forza juventus e nel dubbio per cominciare un venerdì alla grande un'intermerda che non guasta mai per cominciare un'intermerda